Chi gioca, chi fa i bisognini fuori, tutto è fondamentale. Penso che quando poi li metto dentro staranno a dormire mezzo pomeriggio, li metterò dentro. Aguato, benissimo che tutti fanno i bisognini, ottimo, così quando vanno nelle loro famiglie sono già abituati a non sporcare in casa, fondamentale. Si abituano, è presto però, insomma. Bufissimo come corrono adesso. Arrivederci. 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 Arrivederci.